ecco ciao ehi che ti pensi da che? Vagno 21 dicembre 2012 campanile di Santa Marta e ora prepariamoci alla discesa che sarà un po' dura Zamborini, Giovanni, Marco e Pizzi e Roberto sono venuti a perlustrare a fai sceme se da che non girate attenzione perché lì da sotto è un po' pericoloso come è stato possibile passare giù in quieta armonia senza arrivare in fondo al violone a pensare che si prende un po' che è sporco ma non vado appoggiat bene i pei perché lì è pericoloso da bomba è pericoloso davvero perché con tutta questa roba franata sotto attualmente i pei porco voi frioi se c'è un po' che che un po' che si arriva abbastanza un po' che ma che discolo stare è che non poco che fanno più nuota ma che c'è stia l'amco eh? che non che mi stia l'amco eh? che c'è anche l'amco come c'è anche l'amco c'è un pezzo come c'è anche le poli come c'è anche le poli come c'è anche le poli ma strada ora si è bella 可能 ci hai minuto e che figlia che arrivi lascia lascia che vi piu entri con il per Santa Marta va bene che pazzi tutti pazzi però macodazzi e per Matteo Tarantino buo ma che è di caliente che be' però che bacca siamo quasi in fondo il pianino non rimane bene tu grazie a tutti il campanino vieni a fare un passo per volta qui si eslargono oh sono arrivati quasi siamo quasi rivei oh oh la oh ciao 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 ciao